Ma glielo diciamo ai clienti che anche il nostro è bello e lungo? Direi di sì e che anche dura molto di più. Non c'è mica solo Rocco! A Sesto Calende il Black Friday è veramente lungo. Dura tre giorni, venerdì, sabato e domenica. 23, 24 e 25 novembre. Dai venite a trovarci. L'India di Tempo Preziosi e la Galleria dei Cristalli vi aspettano a Sesto Calende per un Black Friday molto soddisfacente. 23, 24, 25 novembre. Lo sconto del 40% lo trovi a Sesto Calende. Dall'Imbiati Tempo e Preziosi e la Galleria dei Cristalli il Black Friday dura tre giorni. Questo weekend vieni e soddisfa con noi la tua voglia di shopping. Dall'Imbiati Tempo e Preziosi e la Galleria dei Cristalli